Ciao a tutti, mi chiamo Enrico Favento e volevo parlarvi di un corso di batteria jazz online, davvero interessante Si chiama Jazz Drama Academy e i docenti sono Stefano Bagnoli e Mauro Mangotto due grandi batteristi e amici Il corso è strutturato veramente bene Io ho scelto di frequentare questo corso con Stefano perché oltre a essere un batterista che ammiro è anche un grande docente secondo me che non è scontato quindi ha un modo di insegnare molto umano e mi trovo molto bene In particolare volevo approfondire tutto quello che riguarda il discorso sulle spazzole che lui diciamo secondo me in Italia forse è l'esponente principale almeno per me Devo dire da quando ho iniziato a suonare con lui, a studiare con lui ho trovato subito dei giovamenti anche seppur magari non suonando del jazz ma anche in altri contesti musicali, altri generi musicali quindi comunque mi sento di avere più controllo più precisione con le spazzole anche tornando alle bacchette quando suono con le bacchette sento comunque di essere più forte da un certo punto di vista e quindi niente vi consiglio di dare un'occhiata al loro sito di guardare il sito della Jazzdram Academy e di iscrivervi Ciao a tutti